Stasera vi voglio fare un piccolo tutorial riguardanti le emot di Halloween celebrative che hanno introdotto su Twitch Siccome per sbloccare bisogna fare tutto un processo, poiché può mandare in confusione anche leggendo attentamente sta roba qui in inglese Io vi faccio una breve introduzione mia, se vi fa piacere, so condendo Hanno introdotto 6 emot base più 1 da sbloccare per il periodo di Halloween Le emot si sbloccano donando i cheers o bits ad un canale che eventualmente li supporta Dove vi fa piacere supportare il canale potete ottenere anche una cosa in più durante il periodo di Halloween Che sono queste emote qui, il problema è che per ottenerle devi fare delle cose precise Che magari qualche dettaglio può sfuggirvi e alla fine quello che ci smettete sono soldi perché i bits sono soldi alla fine della fiera Funziona così Ogni 250 cheers mandati di questa serie qui otterrete una cassa nell'inventario di Twitch e quando l'aprite otterrete queste 6 emot Quando avrete collezionate tutte e 6 queste emot vi verrà sbloccata anche il K zombie Oppure se donate direttamente 5000 cheers perché se vi sentite generosi vi sblocca direttamente questa Se è la prima volta che li comprate in questo periodo c'è anche il 50% e i primi 500 bit li pagate 3,50 euro Però vi dovete ricordare che dopo me ne servono altri per completare l'intero processo Allora acquistare i cheers come funziona? Io adesso prendo il pop up di una chat di un canale che li supporta in questo caso è quella di Bob L'importante è che la chat supporti i cheers e si capisce perché c'è questa icona qui Cliccando su questa icona qui se non avete abbastanza o se non avete proprio dovete cliccare qui su acquista Cliccando su acquista lui vi espone le offerte possibili A quel punto per sbloccarli molto probabilmente vi toccherà comunque comprare questo pacchetto qui Il pacchetto da 1500 bit che come vedete gode dello sconto del 5% sul totale Se avete lo sconto voi con 3,50 avete 5 euro da dare ai vostri streamer Quindi se avete dei streamer che vi stanno simpatici e volete supportare è un'occasione ghiottissima Quindi prendete comunque 500 bit in offerta Poi se volete sbloccare gli zombie comprate questo pacchetto qui che almeno avete lo sconto di 5% Visto che non è pochissima la cifra Però voi dovete pensare se i moto mi costeranno tanto e in più darò un totale di 15 euro Che potrò spargere a botte di 2,50 euro tra i miei streamer preferiti Questo è il ragionamento giusto Una volta che li comprerete avrete scritto qui ai 1500 bit Non finisce qui comunque per riuscire a sbloccarli Perché dovete per forza offrire 2,50 alla volta Questo perché? Perché se offrite prima 100 poi ancora 100 e poi 50 non ve la danno Se offrite 500 ve ne danno comunque una Quindi non è a multipli di 2,50 o a totali di 2,50 È proprio a colpi di 2,50 arrotondati vi verrà data un emote alla volta In più i bit che mandate devono essere di questa serie Altro problema è che gli scaglioni sono così Sono uno, cento, mille, cinque mila, diecimila Come fate a mandarne 2,50? Potete personalizzare la quantità di bit che mandate Semplicemente cliccate una delle icone che vi sta più simpatica Voi potete semplicemente modificare questo numerino e scrivere 2,50 In questo caso come vedete anche dall'animazione qui Vi fa un'anteprima di quale animazione avrete e di quanti bit offrirete L'importante è che il vostro messaggio ci sia scritto questo E come vi accorgete che vi è arrivato qualcosa? Semplicemente cliccate qui l'inventario Nell'inventario voi avrete gli scrigni che avete sbloccato In questo caso io ho 5 scrigni delle emote Più uno perché l'ho già aperto Quindi questo è uno scrigno già aperto Mi ha già dato queste emote Adesso li apriamo anche insieme Così vedete cosa succede quando li aprite Vi esce sto video carino qua e vi dice Hai sbloccato queste emote Sei figo Di conseguenza li andiamo ad aprire tutti E cosa succede dopo? Non lo so neanche io Dovrebbe darti forse un'altra cassa con l'emote del K Oh finalmente questa animazione l'ha fatta bella fluida Perché non ho dovuto aprire un'altra pagina nel frattempo Sta sbloccando due volte la stessa E questo non ci piace A questo punto mi sono triggerato brutto Perché non avevo capito che potevano uscire anche dei doppioni Per quanto rari C'è scritto che c'è una piccola possibilità che ottengono la stessa emote Quella non l'avevo letta Dura fino al 2017 soltanto il Lord K zombie ti rimane per sempre Peraltro doppioni che non è che dici ti rimangono Gli scambi con gli altri come le carte di Steam No Spariscono nel nulla Questa qui era un'iniziativa buona Per introdurre la gente ai CIR insieme al fatto che 500 sono in offerta La morale della favola Se mi è concessa Secondo me è la seguente Non spendete soldi apposta per sbloccare le emote Ma fatelo se volete supportare i vostri streamer preferiti Con l'incentivo di poterne ricavare qualcosa in più del solito Oppure fatelo se siete già abituati a supportare i vostri streamer preferiti Ma magari questa volta vi va di farlo a botte di 250 CIRs alla volta Del tipo della serie speciale di Halloween Z e GUIS Oppure se siete fottutamente ricchi e il K zombesco lo volete a tutti i costi Zombie e K Io l'ho sbloccato nell'arco di 10 casse Quindi 2500 CIRs circa Sempre meno dei 5000 per andare sul Zombie e K a colpo sicuro Ed in più avuto tutte le altre 6 Quindi nel caso il mio consiglio è triardare le singole casse La messa è finita Andate in pace Amen